Raiot, vedete questo? I'm having so much fun looking at these champions, so much fun, Tikiya, do you feel how I'm enjoying it? Yes, of course, from my voice, damn it I'm going full up here Well, you can Yes, you're Kaisa, you're Kaisa, right? Who is Kaisa? No, you're Kaisa, you're Kaisa Kaisa full up here Kaisa full up here Che poi, guarda un po' la fisica di Kaisa, no? Vedi? Lo vedi il seno là davanti? Scusa, ma se tipo... È sproporzionato Allora, io... Beh, come tutti i personaggi della casa... No, 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 lei proprio... Il resto dei personaggi ha semplicemente un seno grosso, che esiste, l'ho visto anch'io in giro No, però, Kaisa con questa skin, se tu disegni dove sta il suo corpo, poi ti accorgi che il seno dovrebbe stare la maggior parte dietro il braccio E se esce fuori vuol dire... E se esce fuori vuol dire... O che ha tipo una... gigantesco... O ha un... o ha un tumore Io dico che ha un tumore No, secondo me sta bene lì No, no, conta... Guarda... Secondo me Kaisa non dovrebbe esistere, quindi... Potrebbe avere più o meno la grandezza del braccio Però che cazzo, cazzo Sempre in meta? Che palle, fissa... No, non è fatta Eh, ma sempre in meta comunque Kaisa è tipo... Kaisa è una versione superiore di Teemo È un assassino, Cristo, va È l'idea di Teemo, ma è fatta bene Ma Kaisa è bene, non so che mi sta a buttare più con Teemo Per fatta bene intendo Dunque No, 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 tu ne hai capito bene, ce l'ho io No, no, facci andare a me E io devo fagumare E io andrei botto, guarda, io andrei botto, guarda Tu vuoi farlo, no, fine man engage Ah, giusto, dovevo venire lì Eh, arrivo Ma se laschi di... Non lo so, mi sembra... E' giusto Figa Ma guarda di mezzo gioco Ah, ma EkaGimo mezzo gioco di fuoco Fighissimo E' ricotte con lui Ah, è vero, lui c'è l'acqua automatica che c'ha... Pabababababababam Peggio di me c'era Io ti ballo in testa Ma che merda? Ma gente non lo sa che la QS in quel tarp che ti hai detto E' fortissimo Di Kaiza, ma nonna Fai una bacca di danni Lo so Però quelli non lo sapevano Meglio Cioè le ho presi tipo cinque volte quella QS in quel tarp che ti hai detto E' un altro gioco, ti ho detto Per me l'importante è prendere il dark cover che ci viscio se muoio Ma ce l'ho dovuta investigare di annullamento, ma fa il schifo porco dio Cosa? Ma Lulu, c'ha sferato l'annullamento? Si è la presa Ne sono accorto anche prima Se no la vera c'è Non fa anche uno, ma fa anche di merda Tricky Solo perchè riesco a prendere Eh vabbè non ci credo ha preso il 2 Ha preso il 2 mentre fai davamo perchè uccise l'unio a Bottega del mio è un campione che cazzo Io non ti posso credere Mamma mia Che c'hai cagare Pure il Kongeror fai schifo Ma fai schifo come c'erumano Ma quel predator rendo pronto di cazzo F***a cagare You know what? Antonia è this Oh no Ricky aspetta sto farmando la giungla un attimo Sono ancora a livello 2 Ah ma anche questo è il 2 Allora niente Sbrigati giù Beh ci metto poco Basta che non ingaggio E' veramente non gioio perchè ingaggio Wow Eccluner si inizia a spammare lo scuso eh Ora torno con lo cannone E ammazzeremo Eccluner Ma che è che inizio per ma scuro ma si che vi attende E' vero Non muore più quello col Kongeror più scuro Ah cominciamo Va bene Mocciso lui non si sa cosa Ti ha lanciato la Q Ma la Q che non stavo manco in bici No ha messo Ha messo la E su Sul mignon No sul mignon l'ha messo No sul mignon l'ha messo Come c'è arrivata Palle però sti qua sono in pay card Vabbè Eccluner col Kongeror Guarda tu che schifo Non è tanto Eccluner ma è più l'Ul in realtà Va bene è pure l'Ul Si sta shottando E' l'Ul che sta shottando Eccluner eccluner No ma Eccluner No ma lei sta facendo molti più da me Ma a me è che l'ha immaginato la Q E che l'ha messo in moto Prova a pusciare la way magari funziona Mori il merda No ti scommetti che Non capisco perché 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 Malphite Slow alla velocità d'attacco Chiediti perché Fiora col Perry Slow alla velocità d'attacco Ah si quello fu Che non Cioè Malphite tu dici è un tank Un po' di si si ci sta Fiora What the fuck Vabbè c'è lì Alva velocissima Può andare Nooo Se il modo attacco il grombo sbrocco Perchè me? Perchè la tua getta me? Perchè sei un cane Ti giuro Ti giuro Ma fai te mi sei vicino per tirarmi la Q Mi hai tirato la Q Sei un cane Tu che mi hai targettato Tu che mi hai targettato Raga io non so perchè C'è Cazzo town di Eccomi Ho fatto un attimo a livello c No ho te che sbaglio Stanno andando a tutti i miti Ah no Mi sa che stanno facendo Giorgio Cazzo Cazzo Ma perchè non ingaggi? Perché c'hai potuto ingaggiare? Su Vai Andro sborone vai Mi ingaggi Ottimo ho fatto questa botta Mi ingaggi Ma accenditi Mi ingaggi Mi ingaggi Si Mi inganno Mi inganno Sono io Sono io Sono io Sono io Adesso Ah Mi ingaggi Palla, questo. Fazzire. Che palle. Non ti scomenti che andrà a tank? No, ogni volta che faccio il flash W1, mi parte il flash. Non ti scomenti che andrà a tank? Eh, infatti, già ci sta andando. Chi sta andando a tank? Cosa? Leperin? A posto. Allora io lo splitpush o meno schifo. Mi prendo il drago, Ricky. Anche non c'è niente altro da qua. Stop, muoio. No, si va bene a curiare. No, non si sta a fare lo ster. Va bene. Ecco, rimdeci armato mi ha ucciso. Ecco, rimdeci armato mi ha ucciso. Eri così bello che ti hanno lo ucciso. Cioè, da c'è armato mi ha riuscito a farmi la f***a. Eh, va. Eh, non abbiamo abbastanza danni per ucciderlo. L'unico apre con uno scudo tutta la roba, non so. C'è armato mi ha ucciso. Non so. 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 Chi è che è là? Iveria? Non so. Non so. Non so. Non l'ho fatta perchè tantissimo Possiamo fare ieri qualcosa Ma botte stavi vincendo purtroppo allora Pesce sopra di vivere lì Come ti dai vuole? Ma che cazzo 2 Q ragazzi eh, 2 Q Vai di chi ha? Ah no sono morto Eh non vedo niente Perché tu non vedevi niente ma io vedevo C'era la fumogena di League of Zhonya Di Graves Dio Sì Dio Dio Ehm Vabbè è giusto No no visto Marzendino che ha subito di Govzonia Ti dà 80 di AT Eh sì 80, 40 di AT Ah forse Ho tirato solo 15 Q Tranquillo Perchè non mi flasha quando P2R giù con Rakan Me lo spieghi sta cosa Riot Ma sta da tank quello Rakan non pia danni Te l'ho detto che sta andando tank Mi ti muore Mi ti muore perchè Stai andando lulu tank Concurore eh Karim Stai pizzo Ma non pia danni eh Karim Cioè ragazzi Gli tiravo del Q non moriva E mi sto già facendo Aspetta Wait Come oggi Fa mi sa che gli auto attack No Semplicemente No No Fa mi sa che i miei auto attack No Non ti fa soltanto vedere No Non ti fa tirare Stranissimo Allora Non capisco perchè non pia danni Ragazzi Cioè che faccio con un bordello di danni Cioè la mia Q fa 700 danni con un colpo 805 Se è clitto 1100 Non ha piato botte Anzi ci torna Ah no eccole Ragazzi non pia danni Fa fight dietro Fa fight dietro Fa Puro Purt Sana Muori Oh ragazzi Un primo danni facevo Ragazzi facevo 200 danni e basta Che vuoi che ti dica Siamo tutti broken Ma Ricky aspetta Ti pizzerà qualcuno Non credo Non viene Allora Sbagliato 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 Ecco perchè non ha tipizzato nessuno Perchè c'è Arrivano tutte C'erco io Poi pushate Poi pushate Meanwhile Me dead Sì Sì perchè lascia perdere la P Qua stiamo Con la gente 3 yard Guarda questo No ma la P faccio malissimo Se prendono le W Sì Peccato che ti carica e carica e tu esplodi Esattamente Arrivano ti carica e arriva e tu esplodi Oppure ti carica questo e tu esplodi Anche se vado a t Non è che cambia molto Anzi Eh ma almeno riesci a fare qualcosa Almeno riesci a caitare Righieri Righieri No non ti muovi stronzo Becca sempre lì Me lo tenchi Se ti metti a fianco a me Magari mi fura insieme Il duro veloce Lo prendi? No dovevo staccarlo Ma lo prendi? Vabbè faccio il drago Tranquillo ma che senti? Non serve Lol Con Karthus posso staccare Il coso al massimo Prima che Torna al Fultà Ok Ma dai nuvola è buonissima Indovina che altro drago c'è Il drago a forma di serpente Oh no ero guardato Ero guardato Ragazzi scusa ho sdrollato Ma League of Zonia Ho visto solo Ho visto solo che hanno zoniato Di modo ho fatto a pushare Ok ma l'ho fatto a zoniato E si vai a pushare Che bestia zige E' morto No che fai Ma che fai Sei con te Is this League of Zonia per caso? Non posso ultare Non posso ultare Non vedo nulla 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 Ma che cazzo Ma che cazzo Aspetta 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 Posso attivare la E e fare la stessa cosa che faccio con Synchet Si 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 Proprio ha rotto i coglioni Io ho un herald Lo voglio Non può essere possibile sta cosa cioè Quasi è andato a fanculo tutti Si Pfff Pfff Hai tirato la chiamata tipo il momento perfetto per bloccare Il mio scudo mi farà abbastanza Mi ultavo Tutti hanno ultato tipo 3% Eh appunto questo scotto del cazzo sono andato anche per questo Non può essere mi ultavo tutti eh Ma se per questo io non ho ancora preso una ulti su qualcuno Eh zoniano tutti Anche hai carinzoni Anche hai carinzoni No hai carino che non prende danni perché ta No ma tanto è carino perché Lulu zonio e gli metto lo scudo prima di zonio Quindi a casa non prende danno Con lo scudo Lulu fa poi fai salita Vadoo che è Dai appiovelo Sto divertendo quando la canica è split push Ah ma spero di si Ah no Che consiglio Oh arriva la Landmanfighter E' scusabile BOOM Ah vero lui Lui non ha la zonia ma questa pisi Eh Lulu si Faccio io il drago, levatevi Ticchi ho appena immaginato la scena della mafia che tipo No, no, ci penso io No, l'ha preso lui, che merda E invece ci ha pensato lui Si è lasciato 44 HP Si è fallito Mi ha lasciato 44 HP Io ho paura di andare in giro Tranquillo, ci sono io C'è una sostanza qui Eh, questo è tutto il cazzo di Ega Vieni qua Vieni qua, ti piazzo tutto Ti piazzo Che polimorfiche, polimorfiche Vieni qui Vieni qui Grazie 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 Sopportatemi Ehi Guarda, guarda Andalo come copia, voglio che zentino Ah, sono belli quelli che splitpusha No, di pezzo di merda Dove è stato quel coso? Bella Tancate, voi mi posso scudare costantemente Ti scudo È vero Ma dai, tanca, guarda, ti scudo io No, muore Che caldo lo scudo a Valentino Valentino muore Vieni qua Vai Arrivo Vai Sono invisibile Che fai, scappi mo? Che fai, scappi? Valentino ce l'ha con i campioni invisibili Che fai, scappi? De marfite De marfite Morim, merda Morim Sai dove vede la piccola League of Zonya io e te? Sai dove vede la piccola League of Zonya io e te? Oh Finite Posso entrare nel loro cannone Più 12 Pum No, l'ho ucciso Non posso entrare nel loro cannone Perché non posso entrare nel loro cannone? Bam Ed stop Giocatanga, pezzo di merda Dai, dai Porco diaz Mi scrive Ez Mi scrive Edz Eccarim from moon speed è la cosa più divertente del mondo Cioè, in confronto a... No, secondo me qui non è molto più divertente In confronto a Kongoro non serve un cazzo Per me è un baffetto Sì, vabbè, no, vabbè perché Eccarim fa poche danni per a moon speed Quindi one shot Sì, però... One shot in un certo punto Eccarim fa poche